Intanto solo vincere E la vittoria è arrivata Mamma mia che squadra Veramente sono orgoglioso di questa squadra È appena finita la partita Intanto ciao ragazzi Benvenuti in un nuovo video di Milanissi del web Una partita che Mi aspettavo dura, mi aspettavo sporca Mi aspettavo difficile Come ho detto nei video pre partita Sia sul mio canale sia su quello del viola canadese Se non avete visto andate a vedere È una partita dove arrivavamo scarichi Mentalmente e fisicamente Dall'impegno europeo Ma la squadra soprattutto nel secondo tempo Dopo l'iniziale svantaggio Dovuto a Ribery Che ha fatto un gran gol Ha reagito e non ricordo altri tiri Della Fiorentina a parte quello di Bonaventura Dopo quel 2-1 Una partita che è iniziata Bene perché dopo 10 minuti Più o meno si è andato in vantaggio Con un gol di Zlatan Che è immenso Oggi ha fatto gli ultimi 20 minuti A pressare Non ne aveva più ma correva Io mi aggrappo a Zlatan E benedico Zlatan Che torna il gol Dalla prima titolare Dopo l'infortunio E che dire Cioè veramente Dopo la Fiorentina Un po' galvanizzata Da quel gol Ho avuto un mezzo errore di Donnarumma Un mezzo errore anche di Dalot Che nel primo tempo è stato peggio Come molti del Milan Che non mi sono piaciuti tanto Poi la reazione al secondo gol E' stata migliore Rispetto a quella del primo Dove la Fiorentina Poi ha avuto quei 10 minuti forti Dove ha preso anche una Una traversa E poi il Milan Un po' è uscito verso il finale Con una traversa di Ibra E quindi nel primo tempo Comunque direi Una partita equilibrata Inizio della ripresa Oh Sarà la quarta partita di fila Che prendiamo gol Cioè no No però Manchester Andata Manchester ritorno Napoli Roma anche Cavolo Prendiamo sempre gol Ai primi 10 minuti Non lo so Ma ci vuole un po' A ritornare A prendere le misure Prendiamo il 2-1 E facciamo gol Su un calcio d'angolo Poco tempo dopo Ma la reazione sembrava Poco lucida Poi è entrato Ismael E' entrato Ismael E ha cambiato totalmente La partita Ha cambiato anche Pioli Che ha messo C'è l'anoglu esterno Esterno Con Bremdias Tra le linee Che era più fresco C'è l'anoglu nel primo tempo Non mi era piaciuto Nel secondo meglio Nel secondo meglio Ha preso un po' Più di lucidità Di fluidità Nei movimenti Nei passaggi Bremdias Mi è piaciuto Ha fatto gol anche Dunque bravo Bremdias Ibra Monumentale Sale Meikers Oggi un po' Un po' meno bene Entra Ben Nasser E quanto Io lo mettevo anche su Instagram Quanto è mancato Ismael Ben Nasser A questo Milan Di una qualità Noi abbiamo giocato Dal novembre Senza il regista Io dicevo che Ben Nasser per me Nella colonna vertebrale Del Milan Era imprescindibile Ti dà quella doppia uscita E non unica Perché Tonali Si Ha fatto il suo Soprattutto nei movimenti Mi è piaciuto Tonali Era molto applicato Nei movimenti Poi gli manca un po' Quella qualità Secondo me Che ha Ben Nasser Perché Ben Nasser Dava qualità Alla manovra Dava verticalità Alla manovra E quindi i palloni Arrivavano più fluidi E anche la manovra È migliorata Poi ha fatto un tiro Cialanoglu Ha fatto un tiro Hernandez Ci sono state diverse occasioni C'è stato il gol Di Cialanoglu Appunto Molto bello Teo Hernandez Oggi un po' Un po' Confusionario Nel senso Ci arrivava Arrivavo sul fondo Soprattutto nel primo tempo Ma Lo vedevo poco lucido Ecco Però È un periodo un po' così Adesso avrà la pausa Per riposarsi E E poi la coppia centrale Imperiosa Oggi Vlaovic Che è un attaccante Fisicamente Devastante Ha preso il sopravvento Due volte Il terzo gol Nasce da un anticipo Di Tomori C'è una roba Veramente imbarazzante Tomori Titolare fisso Romagnoli Dovrà alternarsi Con Chier Però A oggi Tomori Non lo puoi togliere Chier mi è piaciuto Soprattutto Ha fatto anche L'assist Del primo gol Dalot Primo tempo Veramente Male 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 Devo fare i complimenti Alla Fiorentina Che ha fatto un'ottima partita Oggi Veramente Una roba imbarazzante Cioè Eseric Sembrava Platini L'altro Pulgar Sembrava veramente Pirlo Tirata una punizione Comunque L'ha messa lì Ribéry Ha fatto anche Delle occasioni Importanti Martínez Quarta Molto bravo Mi è piaciuto Buonaventura Veramente Una bella squadra Ma L'importante Era vincere Per tenere A 4 punti L'Atalanta Per allungare Sulla Juve Dunque Abbiamo 4 punti Dunque Restiamo comunque Sopra la Juve Se dovesse vincere Sto bene amato Ricorso col Napoli Stasera appunto C'è Roma Napoli Dunque in ogni caso Prendiamo Prendiamo Quota Diciamo Tre punti Come ho detto Fondamentali Una partita Veramente Giocata Soprattutto Dopo il secondo gol Bene Mi è piaciuta La risposta Mi è piaciuta La risposta Fisica Adesso avremo Due settimane Per recuperare Quegli infortunati Che abbiamo Leao Romagnoli Rebic Anche E speriamo Di tornare Al completo Ho visto Un buon Celanoglu Al secondo tempo Ho visto E' tornato Ben Nasser E' tornato Ibra Già Andrà in nazionale Purtroppo Preferivo di no Però Vabbè Ormai La sua scelta E Speriamo Di tornare Belli carichi E fare Dieci finali Per andare In Champions Perché l'obiettivo E' la Champions Se poi l'Inter Perde contro il Sassuolo Perde un'altra partita Ed è a meno tre E noi li vinciamo Si vedrà Ma noi dobbiamo Vedereci dietro Quando E se Dobbiamo essere pronti Ad approfittarne Dei passi falsi Dell'Inter Iscrivetevi al canale Lasciate like Condividete il video Io vi saluto Ciao ragazzi